Bravo sei, in silenzio radio. Così giochiamo insieme al nuovo titolo della Treyarch. E vi ricordo, primo link in descrizione al mio canale di Telegram per tutte le ultime notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty. Ieri ragazzi è uscito ovviamente Call of Duty Black Ops Cold War Day 1. Quindi praticamente passa e finisce l'anno di Modern Warfare, un anno veramente grandioso. Ripercorriamo quello che è successo. 6 stagioni più la season 0, 19 mappe multiplayer, 9 mappe gunfight, 5 mappe guerre terrestri e il grande lancio di Warzone gratuito durante la stagione 2. Quindi un anno veramente incredibile per Modern Warfare. Vedremo che cosa accadrà e se l'Infili World ci farà qualche altro regalo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Vi terrò aggiornate e rimanete sintonizzati. Proprio la software house ieri mattina invece tramite un aggiornamento interno ha cambiato le playlist. Brutte notizie perché è stata nuovamente rimossa Shipment 24-7, Showtouse 24-7, aggiunta Realismo Mosfit e aggiunta la modalità party con il gioco delle armi e via dicendo Mosfit. All'interno di Warzone invece ritorna la Mini Royale. Vi faccio vedere alcune novità per quanto riguarda Black Ops Cold War. Il primo emblema del Prestige è stato aggiornato con un nuovo look. Ringraziamo Prestige Ski per la notizia. Ecco invece le prime immagini della modalità Codcaster di cui a quanto pare ci saranno maggiori informazioni nei prossimi giorni. Apro e chiudo parentesi. Ieri è arrivato anche il nuovo aggiornamento della Call of Duty Companion App. L'app dove potrete vedere le statistiche e le informazioni per quanto riguarda qualsiasi Call of Duty. C'è anche il supporto ora per Call of Duty Black Ops Cold War. Il registro di battaglia è stato migliorato e ovviamente miglioramenti, correzioni e via dicendo. Ieri vi ho fatto vedere anche le mimetiche in anteprima italiana. La mimetica Dark Matter, la Diamante e la Oro Multiplayer e le varianti Zombies. Ecco un primo sguardo alla mimetica Oro invece in game sbloccata già sull'XM4. Ringraziamo Tasti del Carnage Clan. Ecco invece come ottenere un nuovo bonus gratis. Ecco qui una nuova arma in variante appunto Cold War che potrete ottenere tutti quanti. Vi basterà fare login sul sito di Activision Profile.callofduty.com.com.co.d.login Andare nelle preferenze del proprio profilo. Attivare le notifiche delle email. Accedere su Black Ops Cold War e guardare dentro le mail perché vi dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno un codice Redem da riscattare. Ovviamente sul sito calledofduty.com.com.co.id Vi lascio nel primo commento in rilievo la guida così per qualsiasi dubbio trovate lì le informazioni. Ieri durante la live molti i miei iscritti mi hanno segnalato di uno strano bug nella campagna del gioco che crea una disconnessione del controller su PS4. Ho segnalato la cosa. Vi te ero aggiornati. Ieri la Treyarch ha annunciato che ci saranno anche nuove Scorsetrick e Perk che verranno aggiunti con l'arrivo delle nuove Season. proprio in merito a nuove season vi posso dare in anteprima quello che accadrà il 10 di dicembre proprio ieri sera la trailer che ha annunciato i primi dettagli della season 1 quindi avremo il battle pass season 1, nuove mappe in modalità 6 contro 6 la nuova modalità gunfight 2v2 che arriva anche all'interno di black ops cold war nuove armi, la nuova mappa fire team, nuove modalità zombies nuova esperienza warzone classified classified sarebbe per riservato segreto come i fascicoli quando praticamente non possono essere svelati molto probabilmente si parla di alcatraz e l'isola della rinascita le armi di cold war arriveranno dentro a warzone nuovi livelli prestigio, mille livelli stagionari, il master prestige la progressione del battle pass condivisa tra modern warfare warzone e cold war e nuove sfide con tanto altro ancora che vi riporterò e vi svelerò nei prossimi giorni ricordo inoltre che il 24 di novembre arriverà anche la mappa nuke town 84 nel titolo chiudiamo il video informativo con una curiosità sempre dello shop e del negozio di modern warfare i dataminer hanno trovato nei file di gioco un nuovo bundle chiamato nikto senza cervello al costo di 1500 call of duty point contenente una skin leggendaria per nikto un operatore arma leggendario e diversi oggetti cosmetici vi ricordo in merito agli operatori che da ieri è possibile utilizzare gli operatori di cold war all'interno di warzone questo è tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty vi ricordo primo link in descrizione del canale telegram per tutte le ultime notizie vi aspetto dalle 8 in poi su twitch per giocare insieme a black ops cold war e domani noi ci vediamo qui su youtube ore 7 con un nuovo TGCod